Signore e signori, pubblico del Tempio Tavolle, amici che ci eravate, amici che avete seguito per Rai Sport, stanno per entrare in campo e saltarvi l'invita e il genio di Pausa e Guilio, Mr. Sintaglia, apriamo mio amico, grazie a tutti, grazie a tutti! Grazie a tutti, grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!